Allora, solo una cosa, quanto va a condizionare la politica di un sindaco in una realtà di commercio eccetera? Quindi qui ci avviciniamo alla gestione di una città come Venezia Mestre per esempio, altre città da noi. Beh è fondamentale perché... Quanto può fare? Cosa può fare un sindaco? Può fare moltissimo, può fare moltissimo perché ha tutti gli strumenti per decidere il futuro di una città, delle persone che lavorano e delle imprese. Ovviamente con il coinvolgimento dei soggetti perché da solo nemmeno il sindaco più bravo al mondo può riuscirci. Quindi bisogna utilizzare e collaborare con tutte le forze economiche e sociali delle città, definire un progetto di città che si vuole sviluppare e chiedere a tutti di impegnarsi su quel progetto. Purtroppo stiamo vivendo una fase in cui i sindaci sono convinti di poter fare tutto da soli e i risultati per lo più sono sempre negativi e lasciano per strada tante risorse fatte di associazioni, del volontariato, del mondo dell'impresa... Che non vengono coinvolti. Che non vengono assolutamente coinvolte e quindi questo provoca delle ripercussioni negative sulla vita della città. Questo sta accadendo in molte città. L'ente di ingrandimento perché si occupa anche lei della realtà di Mestre, Venezia, quindi la vede da vicino. Si è parlato tante volte di valorizzare sempre più Mestre, portare anche una forma di turismo diverso, chiudendo progressivamente Venezia. È fattibile? Può essere? Adesso qua è un'occasione del Carnevale che peraltro quest'oggi si chiude ufficialmente. Che cosa avete visto? Io penso che il problema di Venezia sia un problema che non può essere... La soluzione non può essere più derogata perché da troppi anni si discute della gestione dei flussi turistici di Venezia. E questi flussi sono diventati nel tempo talmente grandi che stanno davvero mettendo a repentaglio il futuro di questa città. Quello che io penso è che bisogna decidere una buona volta. Una scelta chiara che va poi attuata. C'è chi è per il numero chiuso. C'è chi ritiene invece che la gestione dei flussi possa essere utilizzata attraverso le tecnologie con incentivi e disincentivi. Ragioniamo. Tutte le soluzioni sono buone purché se ne prenda una. Il problema è che continua la discussione e dall'altra parte, ad esempio, a Mestre hanno previsto la realizzazione di quattro hotel per migliaia di turisti. Ecco, allora, questa cosa qua mi fa un po' sorridere. Come si fa da una parte di continuare una discussione sui flussi e dall'altra parte prevedere insediamenti a ridosso della città che portano flussi? E questi non sono ancora oggi regolati. Questa è la cosa strana. Chiarissimo. Allora, siamo arrivati al termine. Grazie Maurizio Francesco di essere stato qui con noi. Magari avremo ancora in proseguo di tempo l'opportunità di fare altri approfondimenti. Ci sono tante cose da raccontare. Grazie della vostra partecipazione, di averci seguito. Vi aspetto questa sera alle 21 come sempre. Buon lavoro a questo punto. In bocca al lupo per tutto. E a voi buon proseguimento. Grazie. 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 Grazie.